L'errore 70 indica un impedimento nel sistema di scarico. Premere C per cancellare il codice errore. Poi premere il tasto Menu Enter, seguito dal tasto Down e Menu Enter per entrare nella modalità manuale. Premere il tasto Down finché si seleziona Drain Chamber. Mettere il coperchio nel suo alloggiamento e premere Menu Enter. Questo provvederà a svuotare il sistema di scarico. Controllare che il filtro non abbia possibili impedimenti aprendo il cappuccio del filtro posto sul retro dell'autoclave con la chiave fornita. Utilizzare guanti chirurgici durante la fase di rimozione del filtro. Sciacquare il filtro sotto acqua corrente. Avvolgere il filtro con un pezzo di carta mentre si soffia aria compressa. Se il filtro è troppo sporco, sostituirlo con uno nuovo. Reinserire il filtro nel suo alloggiamento posizionato nella parete posteriore della DAC Universal e avvitare dolcemente con la chiave apposita. Dopodiché riposizionare il cappuccio ed avvitare dolcemente. Se viene utilizzato un serbatoio di scarico, assicurarsi che non sia pieno ed eventualmente svuotarlo. Assicurarsi che il tubo di scarico non abbia curve o interruzioni. Premere il tasto Start e premere l'anello di sicurezza per far ripartire il ciclo. Se l'errore 70 persiste, contattare il servizio di assistenza.